namaste buongiorno a tutti sono francesco marelli grazie per la fiducia e per l'acquisto dei cerotti della life in questa serie di sette video scopriremo assieme un sacco di aspetti interessanti dei cerotti ma anche della salute in generale siete pronti iniziamo benvenuti nuovi membri benvenuti alla prima classe della life with academy la life with academy ha come missione di aiutare tanta gente e di divertirsi nel processo ci sono tre pilastri della salute numero uno la nutrizione quando nella nutrizione si parla di minerali proteine vitamine eccetera questi sono gli ingredienti del quale il corpo ha bisogno per creare più tessuti per creare il sangue per creare neuroni cellule nervose eccetera il secondo pilastro della salute è l'esercizio fisico si parla di cardio fitness sprint esercizi di resistenza come quelli che si fanno in palestra usano di pesi perché l'esercizio fisico importante quando parliamo dei sistemi circolatori del corpo ce ne sono due principali il primo è la circolazione sanguigna ed il secondo è la circolazione linfatica quando parliamo della circolazione sanguigna è la pressione che viene dal pompare del cuore che fa circolare il sangue mentre invece quando parliamo della circolazione linfatica non c'è nessun effetto di questo genere del pompare per far circolare i fluidi nel sistema linfatico bisogna muoversi ecco perché l'esercizio fisico è molto molto importante per assicurarci una buona immunità quindi molta gente parla di nutrizione e di esercizio fisico ma non ci sono tante persone che parlano della funzionalità degli organi vi faccio una domanda semplice se vi chiedessi com'è la vostra digestione com'è il vostro assorbimento com'è la vostra iscrizione la maggior parte delle persone non ha una vera risposta dirà tipo ok digerisco abbastanza bene o un buon appetito ogni volta che mangio vado di corpo ogni tanto un po di reflusso acido o a volte un po di gonfiore vedete che questo tipo di risposta denota una mancanza di consapevolezza della funzionalità dei nostri organi quando parliamo di nutrizione parliamo tutti sanno parlare di supplementi di frutta e verdura biologica eccetera eccetera quando si parla di esercizio fisico tante persone conoscono vari tipi di esercizio fisico c'è chi ha un trainer personale c'è chi fa corsa c'è chi fa pesi quindi se non sai deficienza in nutrizione sai come hai delle idee su come migliorare e lo stesso vale per esercizio fisico però per la funzionalità degli organi sai mica come migliorare la funzionalità degli organi no e cosa ancora peggio quando quando riferiamo queste deficienze dei nostri organi ai dottori perché tipicamente qual è la risposta sempre una di digestione antiacidi se hai problemi di digestione probiotici o prebiotici quando i problemi di escrezione lassativi queste sono le risposte tipiche quindi tutte queste soluzioni non aiutano gli organi a migliorare il proprio funzionamento ma invece sopprimono i sintomi perché oggigiorno con tutte le conoscenze sui sulla nutrizione e sull'esercizio fisico abbiamo tanti problemi di salute incurabili è perché tutti questi problemi incurabili tutti nascono dalla degenerazione degenerazione di che cosa è la degenerazione degli organi quindi voglio dire in maniera enfatica che se volete essere individui sani ed arrivare a 70 80 90 100 120 anni in buona salute e con energie e con livelli energetici energetici buoni è molto importante concentrarsi sugli organi iniziai a imparare sulla salute dall'età di sette anni e sono più di vent'anni quindi che studio questa materia quindi avete visto l'importanza e della nutrizione e dell'esercizio fisico ma adesso capite anche meglio gli organi e la life wave è l'unica azienda che offre soluzioni olistiche per migliorare l'energia cellulare la gli organi e soprattutto la riattivazione delle cellule staminarie nella prossima lezione parleremo di quale sono le funzioni funzionalità degli organi più importanti e cosa sono le cose che possiamo fare per ringiovanire e riparare i nostri organi ci vediamo nella prossima lezione ciao grazie dell'ascolto della visione spero sia stato interessante e che abbiate imparato qualcosa di nuovo ci vediamo nella lezione numero due a prestissimo grazie a tutti grazie a tutti